allora eccomi qua sono pronta pronta dopo il fail incredibile che ho fatto cioè di scambiare il pesce sbagliato con la pietra sbagliata rischiamo di buttare nel cesso tutto il grinding che ho fatto da qui a qui ma sono riuscita a risolvere e quindi ora ora andiamo a completare la fantastica meravigliosa stupenda quest della kashiwagi per avere il costume da bagno di naoto che 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 spoiler non è il bikini come pensavo io ma un banalissimo costume scolastico terrificante intero blu della tristezza infinita una fatica immonda per questa roba qua ma ormai l'ho fatto e quindi vado fino in fondo d'accordo accettiamo la lezione privata benissimo eccoci qua crono buon pomeriggio come stai lezione privata esatta dalla kashiwagi mannaggia a tutta la fatica che ho fatto e a lei costume scolastico quello che menzionavo prima per naoto tutta questa fatica per questa miseria e niente va così dovrei però averle completate tutte tutte resta questa soddisfazione diciamo esattamente tutte fatte fatte tutte allora in questi giorni andiamo ad estrarre le abilità da varie persone da questa logge estratta quindi può andare a casa tutti i pomeriggi faremo questa cosa qui andremo al caffè chagall berremo un caffè ed estrarremo l'abilità corrispondente dal persona di turno va bene crono a frappe allora al 30 si benissimo andiamo al caffè chagallero okina perché lo facciamo naturalmente perché c'è il trofeo che vuole che io registri 100 carte abilità ne ho già registrate una trentina devo arrivare a 100 si può fare anche nella prossima partita però ci portiamo avanti tutto fa brodo tutto fa brodo tra l'altro ci sono anche gli esami di fine anno verifichiamo che abbia estratto la carta direi proprio di sì passiamo al prossimo che è schiaffo esterico e congediamo al nostro amico sandman a mai più arrivederci ok salviamo perché è sempre bene salvare e andiamo a letto ok pardon che ho toccato le cuffie ma devo sistemarmi andiamo a dormire andiamo di nuovo al caffè chagallero a fare la stessa cosa sono giorni un po' così un po' monotoni un po' vuoti nell'attesa che ci richiami margaret per sapere di marì ho visto visto infatti sono disperata crono sono disperata perché i lì che erano on point nel senso che si era parlato del ritorno di naida più o meno sicuro nilu e ganiu e in effetti prima fase naida e nilu seconda fase baiju ganyu cave 4 stelle sono disperata perché perché mi sono appassionata sempre di più a nilu perché adesso l'ho conosciuta anche in gioco l'ho provata avevo già visto video su di lei e devo rinunciare perché sicuro prendo naida sicuro prendo naida poi aspetto la fine della patch nel senso che non pulerò per baiju non mi interessa non mi interessa neanche cioè forse cave mi poteva interessare però siccome nella seconda fase e non pullo baiju cave lo prenderò quando lo prenderò e risparmierò poi per eventualmente cocomi perché voglio tantissimo cocomi e quindi preferisco tirare re mi in barca verso la fine della della prima fase vedo chi c'è chi non c'è anche come quattro stelle e della seconda fase e cerco di capire se fare qualche pullatina ma non credo credo che risparmierò tutta la seconda fase vedremo che cosa chi esce dopo spero vivamente che non escano nella stessa patch cocomi e iula perché altrimenti è la fine nahida troppo presto per la rerun idem nilu ma nilu quando è che è uscita gioco da ps5 crono da ps5 e ipad alterno tu hai sia nilu che naida o non hai nessuna delle due a parte che tu hai detto che l'hai disinstallato quindi comunque penso proprio che 90 su 100 anni lui rinuncio naida naida so che è molto utile e potrei effettivamente mettere naida al posto di yao yao perché ora ho una formazione per fioritura sulla quale sto lavorando per tirarli su dove ho al haitam come dps come supporto su dps enabler raiden shogun yao yao come cura e supporto e shinshu vorrei togliere yao 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 e mettere naida vediamo non è nessuno delle due ok buonasera solo alla chat buonasera mantesso come sta ma sì ma perché crono lascialo stare perennemente offeso non so perché cosa offeso oggi però è offeso allora siamo al 31 aspetta che cambiamo il persona che ci dà bocca da fuoco che ci dà bocca da fuoco andiamo a letto ma oi ma controller che mi trolla l'urchio che sono immagina ma tanto l'urchierei comunque perché tutto finito va bene va bene ma adesso buon rientro tutto a posto la fisioterapia che andava fare fisioterapia non l'aveva scritto prima ah è vero che loro devono andare a sciare anche già la prima volta l'ha saltato tutto perché abbiamo preso il raffreddore primo febbraio intanto attenzione alla loro costruzione venivano rivestite di pietra calcarea bianca erano bianche tuttavia il rivestimento esterno venne rubato svelandone l'aspetto attuale questa cosa non me la ricordavo sulle piramidi interessante ok torniamo sempre ad occhino offeso io sono mortificato dal continuo atteggiamento abbandonatorio e cattivo della signorina nei miei confronti va bene adesso faccio una deviazione marciapiede stia tranquilla no mantesso lasci stare le vecchine per piacere no 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 sviene come di consueto dopo aver bevuto il caffè no 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 ho arrivato il mio pacchetto benissimo congiudiamo spaccacellule effettivamente potrei anche salvare sul primo adesso frigo special cartoccio tutto il ragazzino tutto il ragazzino al parchetto il pesce si abbiamo fatto il pesce al cartoccio cucina sopraffina signori ho preso il trofeo cucina sopraffina che invitiamo a pranzo? da otto così perché sì ho capito che non è ferrata in cucina Nauto allora andiamo sempre a occhino caffè chagall �ittich sa da salvatino congeliamo il persona abbiamo letto non penso si possa mangiare in allomagna ma vabbè sì loro possono teddy che vuole andare al cinema attenzione attenzione altro ricordo di maria altro ricordo di maria attenzione quando siamo andati sulla collina chi è pronto eccola la localizzata attenzione la trovata si trova in un regno che non appartiene agli uomini e non ci sarà facile mettere il piede laggiù ok chiedo un altro po di tempo per i preparativi bene bene finalmente l'ho trovata manca poco esatto congediamo Ares non dormire via d'arcore quindi benissimo dice ok no 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 ho ballato ancora quindi questa abbia già presa ok l'ultimo giorno quindi questo arriva il tempo di parcheggiare in garage dopo il posto di melisse e torno all'urchiare dal lusso va bene ok questa era l'ultima l'ultima cartabilità che potevamo estrarre i giorni liberi sono finiti possiamo congedare questa persona oh ok abbiamo letto lei è pazza ma in testa sembrissima quando torna vede il suo posto occupata come minimo dieci martellatezze martelazze dice a me dice la mia manchina crono ecco ma il mantesso niente vuole provare a combattere vuole provare a combattere ma ora Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Sì, aprile esatto Mi pare che inizia ad aprile Se non erro Alla prossima Alla prossima Sì, sì, comunque Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Sempre tutto su Yosuke Proprio sfigato Alla prossima Proprio Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima E' strano che non ci siano piatti di carne No Alla prossima 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 Attenzione Alla prossima 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 Grazie a tutti 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 Maria Grazie a tutti 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 Sto Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti La personalità Grazie a tutti 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 Ci sono i Grazie a tutti 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 Per punizione Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti Abbiamo finito Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti